Oggi, Aldo, il giorno 1 settembre 2020, grazie ad un signore che ho conosciuto in questa zona, sto andando in questo bel viale alberato, verso la Villa del Soldo. Grazie che me l'ha detto, che mi ha portato soprattutto. Aldo, il girovago, il viandante delle ville abbandonate, ma direi proprio che questa villa non è abbandonata, perché è tenuta molto bene. Mi sto avvicinando in questo momento, aumenta la velocità, guardo gli alberi in settembre come sono, poi qua in attunno sarà ancora più bello perché cadono le foglie, ci sarà un tappetto per terra di color rosso. La Villa del Soldo, che paese siamo? Alzate Brianza. Aldo, Aldo, si sta avvicinando con lo smartphone a vedere questa bella villa, forse appartiene a un'epoca passata e devo dire che è fatta veramente doc, è un qualcosa di elegante che non fa paura come la Villa dei Vecchi, ma è veramente eccezionale. Guardare queste finestre, l'oblò, è tutto come sono ritenute. Qui mi piace tantissimo Aldo, il girovago delle ville d'epoca. Oggi ho scoperto la Villa del Soldo, così denominata a Brenna alzate. Guardare questo bel portone e devo dire che oggi sono contento di essere arrivato in questo luogo, in questo viale alberato che mi ha condotto a conoscere questa villa del Soldo, Aldo.